Grazie a tutti. Anche voi. Prima platea, poi sgallerie, piccioni e tetto. Allora, guardate, dovete tenere il ritmo insieme a me. Adesso ve lo mostrerò molto lentamente, dopodiché incalzeremo. Ok, il ritmo è questo. Non ho ancora iniziato. Più forte, vogliamo essere l'attentino. Va bene. Adesso è finito il pezzo. Questo è stato il bis. Adesso proviamo le gallerie. Per voi il ritmo è questo. Ok, c'è dentro, non si lancia, no? No, facciamo anche noi il ritmo, quello che fanno anche... Sotto. Quello sotto. Va bene, sopra e sotto. Grazie. Siamo pronti? Sì. Continuate, continuate. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.